Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Marco Azzurro, sto ancora vedendo la partita, siamo sul 2-0 gol di Ossiman Non so come finirà questa partita, ma intanto commento quello che ho visto finora Grande atteggiamento ragazzi, grande atteggiamento del Napoli, soprattutto con le sostituzioni Ma in totale il Napoli ha assediato il Lega Varsavia per tutti gli 84 minuti finora Allora, sicuramente abbiamo rischiato di fare la fine dei fessi diverse volte Perché abbiamo preso delle ripartenze in cui il Lega Varsavia era pericoloso Ma io dall'inizio alla fine ho visto una squadra che è stata perennemente nella metà campo del Lega E ha sudato ogni singola occasione fatta, fino al gol di Insigne che è stato un gol bellissimo Ma mi ha gasato ancora di più il gol di Ossiman perché abbiamo visto tutte e tre le doti di Ossiman Che lo rendono un giottore pazzesco in quest'unico gol Ovvero forza fisica nel recuperare il pallone Lucidità quando scambia con Insigne Proposizione quando si va a inserire E poi un destro secro a incrociare Attenzione qui il tiro Insomma, in quel gol che sancisce il 2-0 abbiamo visto tutte le caratteristiche di Ossiman Che è ancora più devastante quando entra la partita in corso E veramente sono super super felice per questo risultato Perché la squadra sta continuando ancora ad attaccare ragazzi Davvero grande risposta Dopo dei tre partite in cui sentivo gente che parlava di snobbare la partita Ho fatto anche il video ieri in cui dicevo apertamente Non snobbiamo questa partita perché non snobbiamo l'Europa League Anzi perché è una competizione che al Napoli serve È una competizione che ti può dare subito un trofeo E secondo me il Napoli si deve giocare anche in Europa League Con questo Ossiman, con questi giocatori Comunque tanta tanta roba Sono davvero felice E certo non mancano i problemi ragazzi Si è fatto male Mano D'Ass C'è stato un piccolo momento in cui il Napoli Sembrava veramente che non riuscisse a bloccare A segnare Non riuscisse a sbloccarsi ecco Sembrava stregata la porta del Varsavia Tra il portiere che faceva paratoni E i nostri che sbagliavano E questo è frustrante Attenzione qua Politano Comunque è frustrante ragazzi Quando vedi che non segni Però il Napoli ha continuato ad attaccare con una giusta mentalità E sinceramente buonissima partita anche di Juan Jesus Per esempio sulla fascia sinistra Bell'assist di Politano per il gol di Insigne E ho visto molto bene quasi tutti Diciamo Zambo, Anghissa e Demme ragazzi centrocampo Sono una coppia quasi perfetta Cioè hanno delle geometrie fantastiche Sono due recupera palloni Però Anghissa è molto offensivo Quindi si compensano fra di loro Molto bello questo duo Lo riproporrei E per il resto poco da commentare Forza Napoli ragazzi E ci pigliamo anche questo rapo E dai dai dai